eccoci qua facciamo vedere uno spaccato dei nostri momenti grande la giornata oggi per fortuna e il panorama fuori la dice lunga su che tipo di giornate chiaramente non ci possiamo vedere però vediamo se troviamo qualcuno in giro per l'hotel qui ci abbiamo renato ci abbiamo bubi saluta come stai bene a noi no no sto superando la quarantena andare qui ci abbiamo giusi ciao stiamo bene per fortuna supereremo tutto grazie vediamo se ci abbiamo qualcun altro in giro vediamo se ci abbiamo qualcun altro in giro eccoci qua qui abbiamo frankie ghost of hollywood con la papalina laggiù abbiamo laggiù abbiamo la dana per l'altra parte qui abbiamo la silvi non credo che gli altri forse sono un po sparsi in giro andiamo a vedere ci sarà qualcuno chi è lo chef ah già giusto abbiamo lo chef hanno aspetta però per lo chef devo necessariamente fare un giro un po più lungo per lo chef 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 non so se risponde allora lì romeo giulietta forse mi sono perso qualcuno ma nulla lo zio bruno sta migliorando e pare che a breve lo sposteranno da reparto di terapia intensiva al reparto covid normale quindi insomma sembra che tutto stia volgendo per il meglio siamo qua aspettiamo che ci tamponino noi speriamo insomma di vederli tutti quanti prestissimo grazie per messaggi sono stati una quantità veramente imbarazzante quindi grazie grazie per tutto il vostro supporto e tutto il ciao paese vi mando un abbraccio e insomma siamo tutti chiusi qua dentro noi dovete riuscirci anche voi ciao a tutti paese vi mando un abbraccio e insomma